Il laboratorio di realtà immersiva che RSA ha portato a zero emission 2024 permette di illustrare i risultati della ricerca di sistema ottenuti da RSA in questo triennio di ricerca. Il laboratorio è stato portato anche nelle università di Genova e di Ferrara e verrà portato al Politecnico di Mari e successivamente anche alla Link University. È un modo innovativo di illustrare i prodotti e i risultati della nostra ricerca. Nel laboratorio di realtà immersiva l'utente può scegliere il progetto di proprio interesse e selezionarlo per fare partire le immagini. Il progetto idrogeno è un progetto integrato svolto da RSA in collaborazione con gli altri affidatari, Enea e CMR, per ottenere dei risultati comuni che contribuiscano all'introduzione dell'idrogeno, contributo fondamentale alla transizione energetica nazionale.